Allora, guarda! ... ... ... ... ... ... già l'olio per una mia zia è morta porca vacca in straccia raga raga io ho visto la zia c21 con un colore però non mi ricordo il colore però ci vanno tantissimo la zia c21 rosso perché sto spiegando la cosa nel gioco entrano elettrica delle mie tasche e trovo il corpo però penso di rivisto maria fatte che fa tutto il tempo la mari e poi mi sa che scesa mai non so che fare tutto franci perché l'ultima persona che visto entrare in elettrica sinceramente vediamo intelligenti come delle capri cosa ci potete fare ma non lo dici sempre pure no c'è se sei fraga solo uno raga dove si trova il corpo è morto anche cesa il navigation l'ho trovato adesso il navigation ok a posto raga io schifo perché non so non lo sei c'è siamo sei più e lei perché l'avvento nel tempo insieme noi c'è due che potete siete voi due io ho attaccato credo gli occhi faccio così su e giù è avuto una ok a 11 parità roba assurda ma se non sapete chi votare skipate non sappiamo di votare o e meri o e chris ah ok ma chiamami cute per distinguermi da marianna ok altrimenti non si capisce quello che vuoi dire è chi sai appunto accusando più sei lontana da me ma perché raga per cui sono che sono morti tutto perché le tasche non le fa grazie grazie ormai l'avevi detto alla fine avevo vinto ok entrato possiamo iniziare iniziamo ragazzi mutatevi tutti se sono di nuovo impostore mi dissocio ok perfetto ok ok sperisco non farmi nemici facendo le tappe con le morto sicuro ma perché quando muori fai non sono stata io stavolta veramente trust me giuro può essere stata il possibili giuro non sono io gasmi io ero in medbay a fare proverte ci vuole che la schifiamo è sì ognuno ha un suo alibi proprio ok chi è morto raga che è successo ho visto il line che usciva da casa usciva da elettrica entro io e mi ritrovo il corpo ah allora eh allora eh vabbè eh vabbè eh vabbè non lo so no 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 raga non lo so se cosa ha abbottolato cosa ha fatto niente non lo so è che poi Cristian mi vota sempre è schippato veramente lol io ho schippato a posto si è morto la zia penso la zia è morta che è successo gabbo spiegaci mi seguono in chat esco da madbay perché ho finito di fare provette ho ritirato provette perché magari non sto dubitando di nessuno perché non ho visto niente mi hai vinto uscire da madbay si va bene io anche ti ho visto e poi ho incontrato te e mari in sottoteria si ti ho visto ok io pure schifo ok io sospetto dell'arancione però poveri gli ultimi che vengono incolpati ma non capiscono niente poveri comunque si può giocare punto esclamativo di discord sono stata uccisa accesa va bene ok c'è l'arancione ma sto facendo numeri l'ho trovato in elettrica di corpo io sto facendo numeri raga non c'è una bottola che porta da elettrica io sto facendo numeri era scesa vabbè era scesa ed è credito raga raga ma molto per intronati raga se la gioca troppo bene è scesa ed è credito è stata all'inizio a dire che questo è stato quello non c'è Grazie a tutti.